Amici del Genovino d'Oro Channel, buonasera. Vorrei parlarvi questa sera di un amico veramente speciale. È lui. È il miele integrale commacinato dentro il tartufo. Io credo che niente possa essere paragonato a questo per gli abbinamenti ai formaggi. Il sapore, l'aroma, formaggi pecorini, mi raccomando, ben stagionati, c'è un rischio. Il rischio è questo. Quando hai aperto questo barattolo e inizi piano piano a pescare, il problema è che questo miele è subito finito. Il miele col tartufo macinato del Genovino d'Oro, il Genovino d'Oro Channel.